Controlli tu il forno? Sì! Eh? Ma cosa ci hai messo? I gratinati Findus e le nostre vacanze! Acquista un prodotto Findus tra gratinati e platessa alla mugnaia e vinci sempre un buono sconto vola gratis da 50 euro per pacchetti volo andate e ritorno più hotel per almeno due persone. Conserva lo scontrino e dentro sette giorni richiedi il tuo premio. Scopri di più su infornevinci.it Operazione a premi valida fino al 30 giugno 2020 per i prodotti che riportano l'iniziativa sulla confezione.